Si è risolto nel modo migliore, la manovra oggi pomeriggio sarà in Parlamento, sarà una manovra che ridurrà la pressione fiscale nel nostro Paese per molti cittadini con il taglio del cuneo fiscale. Per quanto riguarda l'acedolare per gli appartamenti che vengono affittati, ci sarà soltanto dal secondo appartamento che viene affittato da ogni singolo proprietario, quindi non sarà per tutti, soltanto dal secondo in poi. Siamo altresì molto soddisfatti anche dall'accordo che abbiamo trovato sulla nostra proposta che verrà inserita nel decreto, quindi con un emendamento nel decreto di avere questo codice identificativo nazionale che farà emergere il sommerso di coloro che affittano appartamenti, quindi ci sarà trasparenza, si regolarizzerà tutto il sistema e questo porterà anche ad avere più soldi nelle casse dello Stato che andranno nel fondo per ridurre la pressione fiscale, quindi ulteriore diminuzione della pressione fiscale attraverso questa nostra proposta che è stata accolta da tutta la maggioranza. Siamo d'accordo anche sul testo che verrà presentato dal prossimo Consiglio dei Ministri sulla riforma e lo conoscerete quando verrà presentato. Grazie a tutti. Mi pare che siamo uno dei pochi governi che presenta la manovra nel tempo previsto, quindi mi pare un buon risultato, meno tasse per gli italiani con grande soddisfazione, grande coesione della maggioranza.